Dimmi E no, se stai con la pistola, ti dico, stai sempre attaccato a uno A cranio, anche Oh, venite qua da me, raga, eh Se volete Mi vedete? Venite qua Eh, sì, te vedo, vedoci Perché se no, siete... Kid lo vedo a 200 metri, non so dove sta E io sto andando da lui, in realtà Io stavo facendo l'agguato, il sicario stavo facendo Da dietro con la pistola Tu mi spoileri così Va bene, ma io non ho detto la tua posizione, eh Trevor, ma ti si è lanciato una serie Ci mancherebbe, è ovvio che sto in aria Cranio, allora tu segui Kid, vai, siamo troppo lontani noi State insieme Andiamo, pega Noi siciliani stiamo insieme Ma perché siamo in un tipo Team Sicilia Noi possiamo parlare in geletti Nostro colite Figlierecca Figlierecca Noi Cine mica cine Sì 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 A me va benissimo, vi capisco anch'io Che facendo Comunque vedo tutti io, non solo al partito sopra Sì 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 No no, ma obiettivamente non è che faccio Non esistono players scarsi ragazzi Esistono solo players inesperti Potremmo partire? Non pure sei un filosofo Se avete 10 dita, abbiamo tutta accessabilità Come troppo, Сterna Mamma mia, queste manibili Tutta quella fa cosa Penso che cosa E tu, quando è di te c'è? Sì, torna indietro, stiamo vicino Raga, venite con me, per favore Infatti, Trevor, dove cazzo sei andato? Qua Ci hai fatto vendere E' un cazzininale Mi vedete? Si no, ti vedo, ma non riesce Muore il personaggio ma cosa il massimo meto maniera perchè c'è stato un piazza certo certo ok oh, là? non puoi riuscire a sputtare a destra, a destra, grande, sulla punta della nave a destra, sulla punta di sinistra, se non c'è la luce a destra, sulla punta di sinistra si, tra due punte sta nave, non so adesso andiamo e vediamo, va ah Andersen a sinistra ce ne sono due si, ma sono fuori zettato, va bene vabbè abbiamo iniziato sparate, si, si, sparate sul punto raga spuntatemi i giocatori con due spari riprendiamo la posizione, che spariamo alcius accendiamoli la luce in faccia, così si spaventa si, mi piace è un'ottima idea si, non vedono un cazzo e li ammazziamo io non riesco a vederli c'hai qualcosa tu, Pegasus? no, sto cercando un po' ma non vedo sta attento eh vedo uno ma chi ti ho fissa ma chi ti ho fissa? hittato, hittato qualcuno nooo non doveva finire così cazzo di arma che non ammazzo chi è morto? io kid è morto poi solo kid dalla squadra avversaria nessuno, giusto? e sto per morire anch'io? ve lo dico proprio infatti stavo dicendo che non mi tornavano i conti speravo in due cioè sto scappando tipo le team colpi loro che mi toccano terra sotto i piedi ringrazio all'acqua pa 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 aiop! morto kid no chi era quello? alex addio alex uuuh è partita in mano granata uuuh è partita in mano granata cazzo dietro 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 questo è uno scalatore o? in tre assù uno da dietro per caso bella perché ho ammazzato i tuoi io che c'è rimasto l'altra avversaria? alex che Grazie a tutti